buongiorno buongiorno abbiamo un occhio pecoro ma quant'è pecorizzato stamattina ma bisogna alzarci forza e pecorizzare ci vuole lo schiso mamma mia come schisa vai schisa bene è l'unico modo tempo di pecorizzato l'occhio è facile fare le storie ma non si sa bene tutto preciso e no anche con l'occhio pecorino perché anche l'occhio pecorino vuole la sua parte quindi dei pecorizzati siamo arrivati a giove no vabbè c'è sta pieno anche stamattina sta pieno di figa ragazzi ma buongiorno buongiorno un cazzo ma perché ma perché sì perché un buongiorno un cazzo e poi è un cantante un pangolino un furetto come te si è svegliato a storia è bello pimpante in la palestra il furetto pimpante eccolo guarda vai tanto scalda i bracci è il pangolino ma che stai a fare? corre corre sta pieno sta pieno davvero? scine sta pieno di che? sta pieno di sorca ma è pieno pieno spesso scusa ma così che cioè non è bello tu hai da dare a letta quel che ti dico cioè te la fa no così vai farci no con la bocca così un sole che scende no no vabbè vabbè e poi risale l'ascensore volete vabbè vabbè sta pieno è pieno di sorca ma i verbi li volevamo imparare oh tommo me lo rompe il cazzo porca ah ah hai capito mi rodo un picoglione e sciatto di coglione no ma perché ma che c'è la chiarezza ma che sciatto di coglione ma che ti insegno ma vabbè fai il culo cioè tu devi fai lo stronzo così tu la fa no ma vabbè 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 ma hai capito come la fa no non lo fa niente lascia qua di c***o per andare oh oh mi fa bestemmiare subito 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 no 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 subito subito no perché comunque loro ancora non si sono svegliate quindi ma non mi sono svegliato non mi sono svegliato no tu ti sei svegliato ma loro no capito qua questa è la situazione vai vai molleggia 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 con le gambe molleggia 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 e poi anche già a destra sinistra destro sinistro antipasto no no così no allora come destro sinistro antipasto misto è logico cioè destro sinistro antipasto misto è logico cioè destro sinistro antipasto misto vai provisci vai destro destro sinistro antipasto misto no non è così che si fa meglio no mannaggia la magliana ma che mi ha cascato un dio destro con me fa con me destro sinistro sinistro misto misto meglio no meglio oh se sciacco di c***o porca magliana meglio 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 sto c***o no se sciacco di c***o iniziare la giornata così è bello essere carichi e ora sound check e si vola buongiorno buongiorno ci siamo ci siamo se sei un coccodrillo dillo sale sale non fa male noi siamo pronti ad affrontare questa giornata io sono super carico sono il vostro capitano sono colui che vi accompagnerà in questo domedì voi state lì fidatevi di me uno due tre mamma mia ragazzi vi voglio bene su tre in mano io vi amo se sei se basta mi sono detto che no non è vero comunque quando c'è qualcosa a trasmette mi fermo anche sulla piazzola vedete mi fermo me ne frega un cavolo perché volevo far trasmettere sta carica ciao a dopo guardate dove sono finito zanzan zanzan eccolo grande fede che stiamo a fa niente 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 c'è anche luca e niente stiamo a fa stiamo a questa c***o di la radio si radio maria comunque ho un regalo per te c***o eh si ti ho portato un regalo no eh mi dispiace ma così è sorpresa ma posso vedere cos'è vai 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 tira fuori mi hai portato il regalo e per le sovraggine mi ho portato il regalo perché comunque vai devi portare il regalo ragà perché sennò ma poi nemmeno nuovo è usato c***o e beh certo tanto rimarrà in quel modo c***o tanto non è che lo userò più di s***o ma perché gli crescono i capelli già tagliati quindi eh oh eh so così sempre no no sei un grande hai visto il regalo perché io non avevo detto niente sono arrivato con la bustina non è so facile c***o beh top però eh le ingelli tutti Luca si sente male adesso com'è? come ti senti oggi? in forma? mh no? insomma perché? fanno al quarto dalle spiega pausa è certo no com'è siamo a riposo? eh ne ho fatti 100 mazza quanti chili? 25 25 chili 100 e ora adesso che facciamo? 25 guarda che nonna maria è partita con la gara di ciclette eh? ti frega eh? con la bicicletta? eh sì quando faccio il chilometro come l'ho fatto io e il chilometro l'ho fatto ma dai parti su ops guarda quanto sei brava brava bravissima brava guarda vedrilli mi sono svegliato stracarico è la mia giornata è la mia giornata fortunata ma può essere anche la vostra venite con me su bidu guardate no vabbè guardate è stato vinto un iphone a 9 euro e 65 guardate che lavoro mamma mia assurdo assurdo eccomi qua sto puntando sulla sezione lachery in più se fate swipe vi regalo 10 puntate graaaaaatuite ma l'inferno a gamme dritti se mette le donnine ebbè ogni spazio è un cazzo delitto nooo sono super soddisfatto di questa giornata sto rientrando a casa ma intanto fate swipe andate a commentare questa foto seguo tre persone quindi forza 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 swipe non si piace questo basta dai 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 dammelo mi piace guarda adesso trovo uno che me lo rifà uguale e te lo faccio fare eh dai dammelo te lo faccio pregare e la smetti eh dai dai sto allacciando la sottanza chiude la bottega maria nono no no questo fammela al portale quanto è bellino guarda i brillucci che c'ha sta bene sotto lo metto sotto la cristoteca quanto è bellino dai dai fammela al portale grazie ma dimmi così dritto come mai no ecco guarda guarda sono tonto nucleare come diceva ci sdraiamo tiralo su eh guarda 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 no no come no E' un bacio Guarda quanto è contento Adesso fa anche un po' il pennello No, il pennello non mi fa E allora fai il pennello Fai il pennellino Ma gira gira mi stai sempre dietro Mi metto una ballata Che stai fa? Che bella? Ma che stai fa? Dimmi che stai fa? Oh Ma mi fai male, dimmi che stai fa? Che stai fa? Dimmi che stai fa? Oh Ah Dimmi che stai fa o no? Ah No Che bella che stai dice No No Ma un goccino d'acqua ti idrata Ma io non la vuoi E che volevi? E' il vino E' il vino No guarda Che è o no? Che è? Che è o no? Che è o no? Che è o no? Come? O no? Buongiorno Ciao 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 Oh no Non le vuole? Oh Ma perché? a dove vai? ah scappa vedo te, scappa fa sempre a guardare sempre? e che guarda? allora scappa a andare a scappar che guarda? e che guarda? e guarda i programmi fa 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 no no fa oh no ma ora si incazza come ben sapete ogni tanto mi fa piacere passare un po' di tempo nella camera dei nonni eccola qua perché raga qua c'è un odore diverso c'è un profumo un profumo dei nonni non so come ah mi rilassa tantissimo dopo una giornata lunga mi metto qua mi schiarisco un attimo le idee e sto proprio bene mi sento proprio non so se anche a voi capita però ce l'ho proprio dentro sta cosa è bello ma rispondi no ma perché hai buttato il telefono perché le butto via che tanto non me va genio ma il telefono che me va genio ma l'hai buttato sul cammino si si le butto via ma va va più al telefono lì sento sento e beh faccio una ma più a sto telefono sul cammino non più niente va alla piana no porcao oh te lascio qua di coglione non hai capito ma più al telefono ma più al telefono ma più al telefono ma più per niente che non serve oh vai a rispondere quella c'è vai a rispondere vai a rispondere coccodrilli buonanotte pigiama già pisciato già pisciato perché perché dovete aver già pisciato per metterlo perché se no se vi scappa la notte fate in casino quindi ecco ci vediamo domani oggi è stata una giornata bella 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 ragazzi veramente ci sarà una bomba una bomba atomica però più avanti più avanti ora concentriamoci a domani perché domani è una giornata speciale ma domani me lo sapete dire o no che giorno è cioè voglio 152 bilioni di miliardi di bilioni di storie domani è sì 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 tanto io voglio far vedere guardate guardate che belle queste c'ero anche io quando ero un pazzo fotonico vabbè però guardate che bello c'ho anche il bastone della ziganna buonanotte